E' stato inaugurato presso il palazzetto urban di via Concezione a Monte Calvario il nuovo spazio per bambini dedicato alla lettura intitolato Liberi per crescere, un progetto promosso dall'assessorato al welfare insieme al servizio politiche per l'infanzia e l'adolescenza e gestito con la cooperativa La Locomotiva che ha previsto la restituzione di questo luogo alla cittadinanza al fine di promuovere contesti favorevoli alla crescita e al benessere dei ragazzi e delle loro famiglie. E' uno spazio che in realtà noi abbiamo restituito al territorio e che non veniva utilizzato da moltissimo tempo, per cui è stato anche un po' complicato riacquistarlo come spazio comune ed è proprio per questo che noi abbiamo voluto che questo fosse uno spazio dei diritti in cui costruire anche quell'esercizio al pensiero, anche al farsi domande, ai dubbi e a tutto quello che può in qualche maniera farci crescere. Dico farci crescere perché la crescita non è soltanto dei bambini ma forse soprattutto di noi adulti. L'iniziativa rientra nel piano di azioni che l'amministrazione comunale ha messo a punto nel campo della prevenzione e del contrasto al disagio dei più piccoli favorendo nuove opportunità educative. Qui al palazzetto urban del comune di Napoli uno spazio tutto per bambini, per leggere, per scrivere, per imparare, per divulgare, per stare insieme, una partnership con associazioni molto impegnate sul territorio, ancora un presidio di legalità, di cultura, di sicurezza in un quartiere centrale del cuore di Napoli.